Fantasioso, casalingo ed improbabile è l'utilizzo dei reggiseni, di mogli, mamme e compagne per realizzare delle improvvisate maschere anti-coronavirus. Purtroppo in Italia ed in particolare nel Vallo di Diano c'è penuria di mascherine, la distribuzione è razionata e le scorte man mano disponibili si esauriscono molto velocemente. Nonostante le mascherine non siano efficaci al 100% per evitare il contagio e non siano effettivamente consigliate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, le persone cercano conforto e sicurezza come possono. E nell'attesa di avere una mascherina e sicuramente anche per strappare un sorriso in questo momento difficile per la popolazione italiana e salernitana, impazza sul social network Facebook il video tutorial realizzato da Giuseppe Auleta su come creare a casa, fai da te e con materiale da riciclo la propria mascherina. Giuseppe, giovane di Sala Consilina, artista valdianese, trapiantato a Torino dove ha mosso i suoi primi passi nel design, con un semplice reggiseno, un paio di forbici e degli elastici ha realizzato una mascherina per fronteggiare con il sorriso l'emergenza coronavirus.